Buon pomeriggio da Salsino, stadio Giuseppe Meazza, bentornati con il calcio in questo 2011 da Riccardo Tremisani Batte Robigno, pallone verso Strasser che ci arriva, c'è Paternale di rigore, sinistro! Alto di Pato, prima palla goal, importante per il Milan, si viede il papero In tanti maglia bianconera a saltare dentro, tra cui Zapata, che solissimo gira in porta, non trovando il gol dell'1-0 C'è largo Isla, l'ha vista adesso, Scetonini su Isla, lì vicino c'è Abdi dentro di Natale La palla va per Sanchez, Hiller solo può calciare per la terza volta, goal sinistro! Stavolta prende il palo e poi segna, Toto di Natale in posizione regolare Sesto gol a Salsino, il settimo al Milan, 1-0 per l'Udinese 30 metri Siedorf, largo per Ibrahimovic, vediamo se inventa lui qualcosa Ibra controlla, funta Domizzi, ancora Ibrahimovic, va sul destro, che arriva al centro per Pato! Il papero fa 1-1 all'ultimo istante del primo tempo, Ibra per Pato, pareggia il Milan Isla verso Di Natale, salza il pallone, riesce comunque a triangolare con l'esterno cileno Il cross di Isla verso Sanchez, che arriva per primo e puntuale all'appuntamento con il gol del 2-1 per l'Udinese Perde una bruttissima palla Siedorf, e Hiller lancia Di Natale, contro Bonera 1-1 Di Natale in area di rigore, va sul destro, Di Natale, destro! Di Natale! 3-1 per l'Udinese a Salsino, dalla palla persa da Siedorf L'Udinese adesso di Laga Prodi Tiago Silva deviato! Autogol! E il Milan rientra in partita! Credo benassia! Che propone l'azione per Cassano, al limite dell'area Cassano dentro per Pato Pato! Il 3-3! Ancora una volta Pato, ancora l'ansis di Cassano Il Milan è vivo e va a pareggiare C'è Isla da solo completamente Isla è completamente solo in area di rigore C'è anche Dennis al centro Pallone per Dennis! Incredibile! Ha segnato all'Udinese 4-3 all'89 German Dennis, pazzesco! Bonera morbido Verso Ibra che sovrasta tutti Per Cassano Palla dentro Ancora per Ibra E' solo Ibra in area Si ferma Ibra! Iba vince! 4-4! Che gol! Ancora l'assist di Cassano Questa partita non finisce mai! Ma la partita finisce qui Per le coronarie dei tifosi E per la voce che non abbiamo più Finisce 4-4 Ancora! Grazie a tutti.